Sono in un grotto e leggo la botte e l'unica prigione che renda migliore chi vi sta dentro. Questo è un grotto, ma sapete dove sono? Sapete dove sono? Qui sono venuto tre anni fa a mangiare pane e salame in questo grotto. Mi ricordo e ora vi dico dove sono, quale grotto. Allora, il grotto si chiama Montevideo, questa località, e sono prima di Chiavenna, Prato Camportaccio. Sono sceso comodamente alla stazione col treno, ma guardate che bel luogo tranquillo. E qui le case di una volta e quelle belle montagne della Val Chiavenna, provincia di Sondrio. E poi la prossima volta salgo qui e vado a piedi fino a Ustione. Sì, ero già stato in automobili, ma voglio andare a piedi più di un'ora e ce la farò. E ce la farò sotto questo bel cielo. L'importante è che adesso io mi diriga piano piano verso la stazione di Prato Camportaccio, come ho detto. La fermata prima di Chiavenna. Sto studiando tutti i paesi che compongono la Val Chiavenna, partendo da Colico a Chiavenna. Questa località è stata rimodernizzata, molto bella, anche la municipio che c'è qui davanti, e la chiesa, e il bel sole che c'è oggi. Eccolo là il treno, il treno, il mio treno, quello va a Chiavenna, ma io aspetto tra dieci minuti quello che ritorna indietro a Colico. Eccolo là il mio treno, il treno dei desideri, guardare le montagne sovrastanti che ci sono. Ah, ci sono anche il noleggio delle piste ciclabili, delle bici. Prossima volta ci vado, chiedo informazioni cosa devo fare al mio amico Sandro per noleggiare queste bici e fare tutta la traiettoria ciclabile fino a Chiavenna. Ok, 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 ma guardare qua che belle le montagne circostanti, il treno se ne va, aspettiamo il prossimo che mi porta indietro a Colico. Devo dire che oggi non fa freddo, è una bella temperatura ideale per respirare questa atmosfera sotto il cielo dove mi appare un luogo notevolmente caro, familiare, perché qui ci sono i ricordi di due o tre anni fa e poi più che guardo Chiavenna più mi interessa la sua località. Tutto appartiene a questo mondo che mi circonda a me, all'essere umano Aldo Maspero. Eppure, eppure io qua respiro un'aria buona. L'altro giorno ero andato a piedi bosco in città, in via Dante, ho fatto poca strada, mi mancava il fiato. Qui cammino ore e ore, faccio chilometri e chilometri nelle valli e respiro un'aria salubre. Ecco la stazione ben denominato Prattacamportaccio. Si vede, ecco qui, poi proseguendo da quella stradina lì vado da uno scultore dove c'è tutti i sassi colorati. Qui c'è il ponte che oltrepasso la ferrovia e vado al di là, verso l'Iperal. Sono qui in questo momento a vedere la stazione, perché a me piacciono le stazioni ferroviarie. Vedete questa pista ciclabile? Conduce all'Iperal, conduce anche a una casa dove c'è uno scultore che ha fatto tanti sassi colorati. La prossima volta ci vado. Oggi è abbastanza, è sufficiente questo video che io mi sia riparato qui, in questo luogo, dove il mio assenteismo di un essere umano diventa una persona consapevole di esistere in questo mondo bello, dove basta una finestra sul mondo per concepire che il mondo naturalistico è veramente bello. Vivere qua.